Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Scandelli, sono un radiomatore dell'ARI, Associazione Radiomatori Italiani, sezione di Torino. È un ente morale nato nel lontano 1927, di cui uno dei presidenti onorari è il famosissimo Guglielmo Marconi. Ci affacciamo come radiomatori alla Notte dei Ricercatori dal 2015, in collaborazione con l'INAF, quindi l'Osservatorio di Astrofisica di Torino, per lo studio del sole e quindi degli effetti solari che hanno sulla propagazione delle onde radio. Per la Notte dei Ricercatori proporremo presso il Museo del Risorgimento, all'ingresso nel Museo del Risorgimento, diversi laboratori, di cui il Marconi Lab, una vera e propria stazione radioamatoriale dove possiamo far sentire i visitatori i collegamenti radio, il Samuel Morse Lab, che ha avuto un grossissimo successo, dove faremo sentire tramite i nostri istruttori e provare alle persone il codice Morse, quindi a digitare il codice Morse. Faremo anche una piccola sorpresa di un'attività che i radiomatori fanno, abbinato all'attività in montagna, e alla fine avremo anche la disponibilità di consegnare dei gadget, delle cartoline, qualche cosa che riguarda comunque la nostra attività. Avremo anche dei contributi audiovisivi. Quindi vi aspettiamo il 27 di settembre presso il Museo del Risorgimento.